Buongiorno nanine, partiamo con l'inizio della settimana con questo meraviglioso outfit di Danny Rose dove praticamente indosso questa camicia, vedete, con le spalline interne, la manica un po' a sbuffo e questi bellissimi pantaloni molto morbidi a sigaretta con fantasia quadri che quest'anno va tantissimo vabbè io ho messo delle killer shoes per drammatizzare un po' la serietà ma voi potete mettere sicuramente una scarpina col tacco un po' più delicata diciamo così o addirittura per chi vuole essere un pochino più sportiva e drammatizzare anche un tronchetto o un anfibio basso adesso vi farò vedere come questa camicia si presta benissimo anche sotto a un tubino sempre di Danny Rose, meraviglioso ecco qui nanine, vedete la camicia con sopra questo tubino fantastico sembra un top con una gonna, in realtà è tutto insieme, tutto un pezzo unico c'è la sua cinturetta, la vita è arricciata e ha le tasche fantastico, è anche molto comodo e molto pratico naturalmente nanine vi ricordo che per disponibilità taglie e info su questi articoli che vi sto facendo vedere potete contattarci in direct su messenger se siete su facebook oppure sul nostro numero whatsapp business e noi vi risponderemo il prima possibile oltretutto sapete che spediamo in tutta Italia e quindi in 24 massimo 48 ore questi capi saranno a casa vostra